Perchè vuoi ancora questo da me? Non farmi tornare giù un'altra volta. Ti prego. Ancora a procederti. Ti prego, non gettarla giù. Non c'è cosa migliore di morire per i propri amici? No, Giovanni. Non c'è cosa migliore di uccidere per amore. Avrei voluto essere te, Giovanni. Non perché sei un profeta, ma perché lei vedeva solo te. Tu invece vedi solo lui. Hai mangiato locuste selvatiche per lui, inseguendo i suoi sogni, dando tutta la tua vita, rinnegando padre, madre, fratelli, amici e amori. Non ci spiei, non ci spiei. Non ci spiei, stai cercando i nostri. No, non ci spiei. Non ci spiei. Non ci spiei. Non ci spiei. Grazie a tutti.